Ciao ragazzi, come va? Io sono Stefano Di Sanza e oggi parleremo di fotolibri. Quelli di voi che già mi seguono sul canale sapranno che recentemente ho collaborato con SalDigital. Infatti il mese scorso, più o meno, ho ricevuto a casa un fotoquadro con una mia fotografia stampato su alluminio. L'azienda me l'ha mandata per sapere che cosa ne pensassi e per farmelo recensire. Ad oggi stiamo continuando a portare avanti una collaborazione e così hanno deciso di farmi testare il loro fotolibro. E quindi, bando alle ciance, ve lo faccio subito vedere. Questo è il mio fotolibro, vedete, con le mie fotografie di Instagram più belle del 2017. Adesso, mentre ve ne parlo, vedrete alcune immagini più dettagliate. Il fotolibro è stato realizzato sempre tramite il software di SalDigital. Ho selezionato le foto che più mi piacevano. Le ho impaginate perché si possono impaginare come si vuole, come si preferisce. Io ho scelto il fotolibro a forma rettangolare, in verticale, perché così, come potete vedere, sulle singole pagine posso mettere foto in verticale. Mentre sulle pagine doppie, mentre le foto orizzontali, vedete, mi occupano due pagine e ho questo effetto così. I fotolibri sono completamente personalizzabili. Si può scegliere la trama qui fuori. Si può scegliere se scrivere un titolo o meno, come impaginarlo, tutto quanto. Si possono scegliere i numeri delle pagine da inserire nel fotolibro e la tipologia di carta. Io personalmente per questo fotolibro ho utilizzato una carta con finitura opaca, perché mi piace molto come rende con la tipologia di fotografie che scatto. La copertina è rigida, molto spessa ed è rigida. Le pagine sono abbastanza spesse e sono veramente di qualità, ha una qualità pazzesca. E considerate che io ho selezionato il modello di fotolibro base, perché poi c'è anche quello, mi sembra, se non mi ricordo male, che loro chiamano premium. Nella mia versione è presente questo piccolo codice a barre, che mi sembra con un'aggiunta di 5€ si può rimuovere. Che dire, io sono rimasto piacevolmente stupito dalla qualità del prodotto e soprattutto dal rapporto qualità-prezzo. Credo che sia un prodotto veramente valido e credo che tornerò ad utilizzare questo servizio per i miei clienti, ma anche per stampare i miei lavori. Io credo di avervi detto più o meno tutto quello che c'è da sapere riguardo questo fotolibro SalDigital. Vi linko qui in alto nelle schede un video precedente, dove sempre tramite una collaborazione con SalDigital, c'è un mio codice che se voi lo inserite al momento dell'ordine, su un ordine minimo di 39,95€, avrete un buono sconto di 20€, che potete utilizzare magari per stampare il vostro fotolibro. Comunque nel video trovate tutte le info e i dettagli per usufruire del codice. Io ringrazio ancora una volta SalDigital per avermi fatto questo splendido regalo di Natale. Per questo video possiamo dire che è tutto. Vi ricordo prima di salutarvi, di commentare il video o di lasciare un like se vi è piaciuto, di iscrivervi al canale e di seguirmi su Instagram se ancora non lo fate, e noi ci vediamo in un prossimo video. Ciao!